Ciao ragazzi bentornati, oggi andremo come avrete visto a vedere il nuovo aggiornamento che include i lavori. Allora, per ordinare clicchiamo così, non c'è nulla di meglio che iniziare la giornata con un bel caffè latte o caffè americano? Caffè latte dai. Allora, ordiniamo, dopo passiamo anche a casa a rifornirci di gemme, ho messo questa bocca che guardate quanto è simpatica, è tipo le facce che fa i personaggi dell'Xbox, sono molto bellini, molto videoludici, è anche abbastanza realistico perché, cioè, se no non vede bene da vicino è anche bello e divertente, è anche realistico perché ha molte più mosse di quella precedente. Cominciamo già a ringraziare. Dov'è che l'ha messo? Ah no, sbaglia. Cavolo che figuraccia ragazzi, non ci ha consegnato niente e l'abbiamo ringraziata. Pensavo fosse per noi, si è sbagliata evidentemente. Non era per me, io ho ordinato, io ho ordinato un'altra cosa. Vabbè, aspettiamo, questi inconvenienti possono capitare tranquillamente a tutti. Siamo qui e attendiamo. Come potete vedere io ho 138 avabuck, avabuck come volete chiamarli, e sono paragonabili ai simcash, perché gioca The Sims, alle gemme, tra virgolette, dei giochi pay to win che, guarda, non sopporto. E possiamo convertirle in ava coin. Io non sopporto i giochi pay to win, ma anche qui puoi shoppare, ma se shoppi qui non è che sei in qualche modo avvantaggiata ad un altro, nel senso, non hai solo qualcosa con cui puoi vantarti, con cui puoi goderti meglio il gioco, ma comunque nulla che ti mette a livello di gioco sopra qualcun altro, questo intendo a dire. Ok, quando ho finito Ciao Cici è il nostro turno, quindi dobbiamo andare, lavorare e guadagnare anche noi qualcosa. E no, Germano, ci siamo noi. Ma no, è andato via. Ah, è arrivato? Grazie, l'ho già scritto, però. Vai, vai. Ho 30 secondi, ma almeno fatemi bere il mio coso, no? Dai, andiamo di fretta e furia. Ok, quando ordineranno, perfetto. Vediamo un po' di cosa abbiamo già ricevuto. Caffè americano, mettiamolo subito in produzione. Così guadagniamo qualche soldo e dopo ci prendiamo a fare una bella vacanza. Ah, lo devo prendere, vero? Sì. Ok, allora dov'è? Servi. Abbiamo guadagnato qualche avabac. Io me li conservo perché metti che alzano il valore, ce li ho. Adesso dobbiamo aspettare un altro ordine. Dove è finito il bidone dell'immondizia? Ok, mettiamoci qui. E attendiamo che qualcuno... Qualcuno... Ah, che cosa simpatica. C'è la cassa? Ok. Aspettiamo che qualcuno ordini. Quando abbiamo finito il turno andiamo a casa, ci facciamo una doccia e ci rilassiamo. nessuno ordina più niente. Lo sapevo, l'ho vista lì. Ah, cioccolata calda, eh? Si gode la mattinata per bene, la signorina. Allora, eh, subito, raccogli. Grazie che sei venuta tu a prenderlo, non dovevi, eh, però mi sta finendo il turno e se non vuoi aver sprecato denaro... Servi. Servi. Tenghi. Grazie tante a lei. Adesso ho già una somma più discutibile sul mio conto. Tra venti secondi ho finito il turno, quindi ho ordinato adesso, non lo svinate più. Dieci secondi. Accetto sempre le richieste d'amicizia. E ormai, mi spiace, l'avreste dovuto fare prima. Ok, adesso direi di inviare l'amicizia a tutti quelli che ci hanno aiutato, diciamo. Grazie tante del regalo. La richiesta ce l'ha già inviata, inviamo la richiesta a quella. Aggiungi amico. Dai, ordiniamo qualcosa, io mi siedo... Ando, mi siedo... ops, sbagliato. Mi siedo qua, che quella sedia là è un po' buggata. Mi sono seduto sempre qua, però è buggata quella. Nel senso che la visuale diventa strana, ecco tipo qua. Che in teoria passa attraverso, però fa un bel effetto perché sembra tipo prima persona. Dopo un cappellotto prenderei questo. Dai, una ciambella glassata. Per poi andare a casa, farci la doccia, riscuotere un po' di gemme che ci permetteranno di acquistare queste cose che ci daranno la carica, più o meno. Farci una doccia e iniziare il lavoro, in grande. Ehm, ahimè sto scrivendo nella parte sbagliata. Grazie. Ok, mangiamo. Dopodiché andiamo via. Beh, io non ho molto tempo da star qui sinceramente. Ma perché è mezza nuda in un negozio? Cioè, potevo capire se eravamo in una location tipo mare. Questa o è tornata dal mare, ma non mi sembra, è un topless da mare. Non mi sembra proprio. Adesso vado a casa che mi devo preparare. Ci rivediamo tutti. Scrivo sempre così, ma alla fine raramente. Oh, cominciano con la cantilena tutti quanti. Io vado a casa. Ho l'aereo prenotato. Altrimenti qua non ne usciamo più. Forse prendo nel gioco un po' troppo sul serio. Cioè, capisco chi dice nel gioco. Però, diciamo che comunque il gioco è un alter ego. Nel senso che rispecchia ciò che è un altro, ciò che tu sei nella realtà. Cosa vuol dire? Che se tu mi dai l'idea nel gioco che vai da quello, li chiedi così. Vai da quello, li chiedi così. Fai venti persone in una stanza. Che poi, vabbè, il numero massimo è otto, però. Per dire, chiedi la stessa cosa a venti persone. Tu mi fai capire che non hai fedeltà per niente. Visto.